Tornè in Edicola, I love Sicilia, il mensile esce oggi con una copertina dedicata agli architetti. Abbiamo scelti 40 facendovi vedere i loro progetti, i loro lavori, con immagini molto suggestive, molto affascinanti che disegnano, in qualche modo progettano un futuro che già alle porte sono architetti di ogni tipo, dagli urbanisti ai designer di interni, ma tutti hanno in comune la qualità del loro lavoro che è stata riconosciuta anche con premi importanti, nazionali e internazionali. Abbiamo un po' mischiato mostri sacri, già affermatissimi e giovani emergenti da tenere d'occhio. È chiaro che non è un elenco esaustivo, tantissimi altri bravissimi architetti siciliani non ci saranno, ma non mancherà occasione per parlare anche di loro. Poi in questo numero tante altre servizi, altre rubriche. Il weekend, questo mese, la nostra rubrica è dedicata al gusto e al weekend, è tutta incentrata sul ragusano, con i segreti di quello che ormai si chiama il Ragusa Shire, visto che tanti inglesi ormai lo hanno scelto per le proprie vacanze. Ottimi consigli su dove mangiare, dove dormire, dove fare compere e soprattutto tutti i sapori della zona, con i bar, le ricette, i ristoranti per un fine settimana davvero saporito. Tanti personaggi in questo numero, come Roberto Bertola, che è ai vertici di Unicrate, Banco di Sicilia, nell'isola, che ci apre le porte di Cassa Sua e ci parla del suo rapporto col vino, nella rubrica La Cantina di, curata da Umberto Ginestre. Poi ancora tanti personaggi, c'è Francesco Cascio, che racconta del suo viaggio in Africa, tra orfanotrofi e villaggi poverissimi, in cui lui si è a fare per qualche giorno il medico, prendendosi cura i bambini del posto insieme a Rino Martinez, cantante e missionario palermitano, e ancora tanti altri personaggi, dal musicista catanese Paolo Buonvino, che scrive colonne sonore per grandissimi registi del nostro cinema, e tante altre facce siciliane da scoprire in questo numero di Hello Sicilia.